Buongiorno a tutti, io sono Lodovico di Incawe e questa è la Masterclass di Power BI. Allora, abbiamo visto un po' di sistemi per importare i dati nella nostra Power BI desktop, quindi dei sistemi per importare i dati da locale e dei sistemi per importare i dati da cloud, come OneDrive, Teams e SharePoint. Nel stagio appunto andiamo ad approfondire un pochino in più il sistema di cloud, quindi andremo a vedere come collegarsi al SQL Server in cloud, che non è residente su una nostra macchina all'interno della nostra internet, è proprio sul cloud di Microsoft, quindi proprio SQL Server in cloud, che è un servizio alla fine. Piuttosto che andremo a vedere come collegarsi al sistema di Synapse, che è il Data Warehouse praticamente di punta della Microsoft, che è una cosa che assomiglia un po' al SQL ma è un po' diversa. Allora, andiamo a vedere come si fa per fare questa cosa qua. Andiamo in Power BI. Rispetto a come vedevamo quando noi andavamo a importare i dati di SQL Server da locale, qui lo dobbiamo fare proprio col driver nativo, quindi in questo caso dobbiamo sempre utilizzare SQL Server, quindi dobbiamo utilizzare questa cosa qua. A questo punto noi dobbiamo dargli le coordinate, praticamente dobbiamo dare il nome dell'istanza e quando noi vedevamo praticamente il vecchio sistema da locale, poteva bastare anche questo e poi selezionavamo il database in seguito. Quando siamo in cloud le cose sono un po' diversi perché a meno che non abbiate proprio i super permessi per vedere tutto, siete sysadmin di tutto, bisogna sempre dare il nome e il cognome che è sempre dato da il nome del vostro server, quindi l'istanza, ok? Se non lo sapete la dovete chiedere a chi vi sta gestendo il SQL Server oppure il vostro IT, quindi mettete appunto l'istanza e qua mettete il nome del database al quale volete connettervi. Dovete mettere anche il database, anche se è scritto facoltativo, voi mettetelo così siete sicuri che la connessione andrà a buon fine. Poi sotto appunto col driver nativo vedevamo che possiamo fare un'importazione, quindi portiamo in pancia tutti i record quando li andiamo ad estrarre dal nostro SQL o Synapse perché alla fine la procedura è la stessa, oppure Direct Query, quindi noi ci colleghiamo in Direct Query, quindi quando andiamo a fare un filtro su un grafico di Power BI o una qualsiasi cosa, verrà fatta una query sul momento che sia l'utente finale o siete voi che dovete leggere i dati, parte sempre una query verso il sistema sorgente. Quando avete fatto il click, parte questa query che restituisce i dati e li restituisce a Power BI. Generalmente il Direct Query si utilizza praticamente su sistemi di Big Data e in questo primo corso non andremo a trattarli molto, li vedremo un attimino solo sulla parte di Excel. E sotto abbiamo opzioni avanzate, se sapete come scrivervi la query, la query appunto scrivete la query. Vediamo che cosa succede, adesso io prendo un mio sistema e praticamente mi collego e vediamo che problemi nascono quando mi collego come vi ho spiegato, che è tutto giusto, però bisogna conoscere anche delle altre cose. Ovviamente io qua ho oscurato le coordinate per non mostrarle. Faccio OK. Perfetto, adesso che cosa succede? Esce questa cosa qua. E qua mi dice appunto dove devo andare a collegarmi. Ovviamente questa praticamente compare la prima volta che andate a fare la connessione verso il SQL Server in Cloud o verso Synapse. Sistemi in Cloud, come vedevamo per SharePoint, OneDrive, Teams, bisogna sempre utilizzare l'account di Windows che può essere praticamente il vostro indirizzo email piuttosto che l'UPN. Tendenzialmente si inserisce sempre praticamente l'indirizzo email. Quindi qua fate clic su Accedi, selezionando, lasciando il server che avete messo fuori e qui praticamente ci colleghiamo col sistema. Adesso io qua metto la mia password e praticamente tendenzialmente qui le cose sono sempre a due fattori. Vado a collegare praticamente con l'app Authenticator perché ce l'hanno quasi tutti i servizi. Ormai faccio la prova così mi collego al servizio. Ecco che qui praticamente io adesso mi sono collegato e qui mi lascia effettivamente fare il connetti sull'istanza che ho dichiarato nel passaggio precedente. Quindi faccio connetti. Questa procedura qua adesso si sarà registrata all'interno del vostro Power BI ma non in altri PC perché adesso si memorizza dentro la Power BI desktop del vostro PC. E qui vedete che praticamente mi dice praticamente cannot open server e mi dice che praticamente questo IP se leggete, facciamo anche un po' di zoom mi dice che praticamente l'IP non è autorizzato ad accedere al sistema. Qui è un po' più complicato perché quando noi abbiamo un servizio all'interno di Azure Cloud praticamente quando noi abbiamo un SQL in Cloud o un Synapse è residente all'interno di un servizio specifico di Azure Cloud. Quindi che cosa dobbiamo fare per poterci collegare a questa cosa? Perché dobbiamo fare attenzione quando parliamo di Cloud tendenzialmente bisognerebbe entrare nell'ordine delle idee che bisogna avere tutta l'infrastruttura in Cloud per non incappare in questo tipo di problemi. Adesso che cosa è successo? Perché mi ha dato errore? Perché io sto usando il mio PC locale e ho cercato di collegarmi a un servizio in Cloud tendenzialmente i servizi in Cloud a meno che qualcuno non li abbia aperti a tutti e quindi se poi io conosco le coordinate riesco a collegarmi e a provare a fare anche l'accesso però non è una cosa sicura perché un hacker potrebbe prendere questo indirizzo e fare praticamente un brutto fossa ad esempio potrebbe cercare di beccare la password per accedere ai sistemi. Allora che cosa viene fatto? viene messa una restrizione degli IP e tendenzialmente solo gli IP all'interno della internet aziendale riescono a collegarsi al servizio. Questo è un primo livello di sicurezza però non è sicuro neanche quello allora si fa una restrizione ancora maggiore tendenzialmente si dà l'accesso ai servizi in Cloud solo alle risorse che sono in Cloud questo che cosa significa? Significa che ad esempio un terminal server un server virtuale quindi ad esempio vedete qua giù in basso a sinistra io ho questa iconcina qua che se faccio clicco qua, remote, vedete e quando io mi connetto qua che cosa succede? che accedo praticamente in una macchina in Cloud perché tendenzialmente il terminal server ma non è detto che sia in Cloud però diciamo accedo a una macchina che ha montato tendenzialmente probabilmente un Windows Server queste macchine qua tendenzialmente si cabrano si installano con un IP statico che cos'è l'IP? Praticamente è l'indirizzo identificativo di quando noi ci colleghiamo in internet quando noi andiamo con il nostro cellulare ci colleghiamo un sito internet il nostro dispositivo quando si connette ad internet prende un nome che è l'IP ok? con quello ci riconoscono ok? quindi quando noi anche con il nostro PC locale andiamo, ci connettiamo e navigiamo in internet e il router è collegato perché è lui che ci dà internet che è collegato alla linea ad esempio di Windy, FastWeb, di Telecom quello che volete però il router ha un nome specifico che è appunto l'IP e quello quando noi spegniamo il router e lo accendiamo succede che l'IP cambia ok? quindi se cambia quando io vado ad abilitare l'IP del mio PC che cosa succede? che io lo abilito ma se spengo il router e lo riaccendo l'abilitazione che ho dato in Azure non funziona più quindi potrebbe essere che poi ritorni di nuovo questo problema qua invece se avete appunto un server di lavoro, di gruppo ok? abilitate l'IP del server quello lì è statico significa che non cambia mai quell'indirizzo lì e allora una volta che l'avete abilitato in cloud quell'IP funzionerà sempre quindi lo fate una tantum poi bisogna capire se potete abilitare voi oppure se dovete chiedere al vostro IT o chi vi gestisce i servizi di abilitare appunto mettere l'eccezione al servizio per quello specifico IP adesso io vi faccio vedere anche un sistemino per fare in autonomia per abilitare temporaneamente il vostro IP quando si ad esempio vedete se io clicco se passo sopra qua col mouse lui mi fa vedere praticamente un IP lui mi diceva come vedevamo prima che questo IP questo nome come vedete poco più sotto c'è un numero quattro cifre 87 qui c'è scritto 87 2 19 77 questo è l'IP che in questo momento è assegnato alla mia rete quindi io sono collegato attraverso questo IP questo IP non è autorizzato ad accedere ai servizi in cloud quindi noi dobbiamo proprio prendere questo IP qua e andare ad abilitarlo a seconda delle grant che avete potete fare l'operazione che adesso vi farò vedere all'interno del portale di Azure se avete le autorizzazioni per farlo vi mettete l'eccezione sapete che dura una giornata e poi si disattiva oppure se cambiate l'IP dovete andare a rimettere l'eccezione in automatico in manuale oppure la si va e questo non ve lo faccio vedere perché non voglio farvi un corso su su Azure Portal ok però dovreste andare a mettere l'eccezione in modo statico quindi lasciarla fissa così poi è sempre valido però sempre attenzione al discorso se cambia l'IP allora qui vedete che appunto non riesco a collegarmi allora come faccio adesso ad andare ad autorizzare questa cosa adesso andiamo sul sistema di Azure Cloud quindi come si fa? si va su portal.azure.com questo è il servizio servizio l'indirizzo per accedere al portale Azure ok quando io entro qua che è dove poi sono residenti il SQL in cloud Synapse e tantissimi altri strumenti quindi noi che cosa facciamo? noi dobbiamo entrare adesso ve lo faccio vedere molto velocemente perché ripeto non voglio farvi un corso su Microsoft Azure ok faccio vedere proprio come si fa a ricercare questa cosa noi dobbiamo andare quassù nel ricerca e dobbiamo entrare nel resource group ovviamente se voi non sapete queste cose qua dovete fare riferimento a chi vi gestisce queste cose qua ma se le conoscete perché il resource group praticamente è il gruppo di risorse perché il SQL Server viene installato all'interno di un gruppo proprio c'è un contenitore questo contenitore è un nome come se fosse un nome di una cartella per così dire a grandi linee quindi quando io vado qua e metto il nome del gruppo di risorse sotto mi compaiono appunto ad esempio queste risorse qua e vedete che qua praticamente c'è il SQL Server c'è una risorsa all'interno di questo gruppo che si chiama appunto SQL Server una volta che abbiamo trovato questa cosa qua noi clicchiamo appunto su questa risorsa vedete che qui c'è anche il simbolino se faccio lo zoom c'è anche il simbolino del SQL Server quindi se entro qui ad esempio vedete in questo caso praticamente io ho una panoramica e praticamente vedo che ci sono due sistemi se scrollo un po' adesso un po' di zoom qui c'è un SQL Server in cloud e poi qui c'è scusate questo è un SQL Server in cloud questa qua giù vedete c'è scritto database SQL Server significa che appunto è un SQL Server in cloud questo qua c'è su che c'è scritto pull SQL è dedicato è un synapse ok questo è un synapse che è il servizio datograus che vi accennavo prima io qui ce li ho tutti e due qua sotto questo gruppo di risorse ok come faccio ad abilitare praticamente il mio indirizzo IP quando io sono entrato appunto nel servizio entro nel database specifico noi ci stiamo collegando a questo database quindi clicco proprio nel database qui cambia il menu adesso chiudiamo con la freccetta qua su questa cosa quando ho fatto questa cosa qua che cosa succede praticamente compare praticamente questo bottoncino cambia il menu quando avete cliccato sul database vedete che cambia tutto il percorso qua su quando io ho fatto questa cosa qua compare praticamente editor di query ok questo sistema più veloce per andare a abilitare il vostro IP quindi premete su editor di query e si arriva praticamente qua adesso lui sta facendo praticamente un tentativo di connessione vedete che praticamente anche qua dice che non riesce a collegarsi praticamente vedete qui c'è proprio lo stesso errore che vedevamo fuori non è riuscito a collegarsi perché perché se leggiamo l'indirizzo il messaggio dice appunto che questo IP che è quello pubblico non riesce a collegarsi ok allora se io qui vedete IP elenco elementi consentiti nel server questo quindi io qui se clicco qua ok vedete aggiornamento delle regole del firewall quindi ho inserito la regola di questo IP all'interno del firewall adesso io posso accedere ho creato l'eccezione ok per questo specifico IP se io spengo e accendo il router non funziona più devo rifare la stessa identica cosa perfetto abbiamo fatto l'accesso al portale e abbiamo attivato praticamente l'eccezione ripeto se voi non lo potete fare quello che ho fatto io in questo momento quando entrate non vi permette di fare dovete chiederlo al vostro IT o al vostro referente andiamo rifacciamo l'operazione praticamente di connessione andiamo sul SQL Server rimettiamo praticamente le coordinate allora adesso le sto prendendo eccole qua mettiamo le coordinate e il nome del database come dicevamo prima facciamo ok adesso vedete non mi chiede più le credenziali perché prima le avevamo inserite vedete che adesso mi sta trovando le tabelle quindi nel momento in cui ho fatto questa operatività qua io entro e appunto qui vedo le tabelle cosa faccio mi posso prendere ad esempio una qualsiasi tabella mi posso prendere ad esempio questa ci clicco come abbiamo visto nel precedente lezione adesso questa ad esempio è vuota ma insomma si fa trasforma dati e io praticamente vado a importarmi in Power Query la mia tabella ok questa è l'unica particolarità c'è il discorso proprio delle eccezioni del DP quando ci si collega però il sistema è identico come l'abbiamo visto sul sistema locale ok è la stessa cosa se voglio andare ad esempio su un Synapse è la stessa identica cosa o meglio ci assomiglia un pochino perché ipotizziamo io voglio andare ad esempio qua l'istanza nel mio caso Synapse è sempre la stessa solo che il nome del database cambia adesso vediamo un po' quando io faccio l'ok lui mi dice vediamo che cosa dice praticamente vedete lui si collega abbiamo messo l'eccezione praticamente qui si è collegato ugualmente ok lui ha riconosciuto il mio accesso e riesce a farmi entrare così facendo praticamente io mi sono collegato anche a Synapse vedete che praticamente è molto molto simile cambia un attimino la connessione se utilizziamo altri tool però con Power BI desktop la connessione è identica SQL Server Synapse la procedura è sempre la stessa dovete solo fare attenzione appunto all'eccezione dell'IP un'ultima informazione se noi poi andiamo su origini recente vedete che ogni volta che accedo adesso non mi credo più le credenziali l'IP funziona tutto bene se devo revocare le eccezioni cioè quello che ho fatto quindi la configurazione verso questa istanza vado su trasforma dati di Power BI Dex faccio impostazioni origini dati e qui vedete che praticamente troviamo praticamente la connessione che abbiamo fatto la riconosciamo che ha il nome dell'istanza e il nome del database ok se io vengo qua e faccio modifiche autorizzazioni e faccio elimina ok facciamolo facciamo elimina praticamente io ho revocato le autorizzazioni di questa cosa qua quindi che cosa succede modifica elimina lo rifaccio ok bisogna andare su globali ok adesso è sparito dovete andare su globali e farlo da qua con modifica autorizzazione facciamo chiudi se io adesso vado e mi ricollego al mio sequel lo facciamo per l'ultima volta vedrete che praticamente io ho revocato le autorizzazioni su questa mia macchina quindi vengo qua provo a collegarmi e mi richiede le credenziali però se io vado a fare appunto l'accesso però in questo caso l'ip per ora è ancora attivo almeno finché non lo cambio finché non scavalca la giornata o finché ad esempio non vado dal cavo di rete alla wifi perché ovviamente sono ip differenti quando io vengo qua comunque faccio connetti c'è l'eccezione appunto all'interno di Azure che autorizza il mio ip ad entrare e ecco che mi collego quindi proprio questo è il il nocciolo della questione è proprio una questione di autorizzazione quindi se non ci riuscite sapete che è l'ip non autorizzato ad accedere al servizio in cloud bene direi che ho fatto un po' di giri di parole vi ho spiegato un po' in modo largo come funziona ma spero di essere stato il più esistivo possibile di essere riuscito a trasmettervi e a farvi capire come funziona questo tipo di collegamento come sempre lasciate un bel like al video se vi fa piacere iscrivetevi se non siete iscritti e se volete sostenere il canale magari pensate a stipulare un abbonamento se preco il bottoncino che trovate qua sotto vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao